Ci siamo. Paolo, è andato tutto male, una partita da cancellare, un pomeriggio da dimenticare per il Frosinone. Sì, avevamo preparato la partita più caldo sulle ripartenze e su prendere l'Atalanta in contropiede. Eravamo anche messi bene in campo, riuscivamo a prenderli abbastanza aggressivi, solo che quando abbiamo subito il primo e il secondo gol ci siamo un po' aperti, dopo volevamo restare in partita, ma il terzo gol subito dopo un minuto del secondo tempo ci ha davvero tagliato le gambe. Sì, forse dobbiamo metterci qua più di cattiverne nei contrasti, qualche volta siamo stati un po' leziosi e non possiamo permetterci perché è una squadra come noi che si deve salvare e non può fare questo, deve prendere ogni partita come una battaglia, anche se l'avversario ha dei mirti e dobbiamo fare i complimenti oggi. Più che altro sì per il morale, però dobbiamo pensare che comunque bastano davvero pochi punti per riprenderci e prendere quelle squadre che vogliono salvarsi e a partita domenica che abbiamo un scontro diretto dobbiamo sicuramente concentrare le nostre energie su questo. Paolo, è anche un problema fisico perché l'Atalanta a un certo punto della partita sembrava andare a mille all'ora, è soltanto un problema morale per il Frosinone eppure è anche un problema fisico? No, è normale che se tu tieni in pallino del gioco per tutta la partita fai anche meno fatica, noi comunque non abbiamo quasi mai preso la palla al primo tempo e giocando a ripartenza vuoi che spendi più energie, poi quando sei molto basso fai fatica sempre a ripartire, quindi è più di spese di energie. Ci giochiamo tutto no, ma tanto a Bologna domenica? Eh sì, contro Bologna sarà una partita fondamentale.